Ciao a tutti ragazzi e come al solito sono Franky ed oggi sono qua per questo nuovo video di GTA 5 online quindi proprio addirittura siamo passati all'online per l'ennesima volta siamo qua in compagnia con Erminio Ottone Ciao a tutti Guardatelo, questo abbigliamento molto abbigliamentoso Aspetta, me levo il coso, guarda eh, allora Inventario Non so se si notano proprio Le texture in HD poi di GTA Ma comunque guardate questo è l'abbigliamento nuovissimo Questi calzoncini assurdi Ma comunque oggi non siamo qua per vedere il suo abbigliamento sceno Mentre il mio, guardate che gran classe La pappone di Via Tiburtina Comunque sia, la missione di oggi è una missione fatta da Lester Dove dovremmo rubare una famosa valigetta Che insomma le valigette sapete no? Si rubano sempre, si rubano mai E quindi siccome noi siamo spawnati qui per misteriose ragioni Dobbiamo per prima cosa raggiungere Los Santos Quindi con Vedete si trova qui la valigetta In questo puntino verde E noi invece siamo Praticamente a milioni di metri di distanza Quindi molto probabilmente noi ci rivedremo fra pochissimo Proprio Bella Esattamente Ok siamo finalmente arrivati a destinazione Il che già ci stanno sparando Quindi è tempo di buttarsi Eccoci qua Con questo simpatico paracatute Mi stanno per uccidere subito Mi stanno per uccidere Mi stanno per uccidere Sono morto Che grande azione Mi stanno per uccidere Mi stanno per uccidere Sono morto Che grande azione Butta, 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 butta Di che è morto Esci Ok iniziamo a sparare vai Oddio Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Sembra una puntata di Beautiful No, no Non è perché di Beautiful Ecco qua ci vorrei Mori Eh certo Attenzione Perché poi Beautiful è molto Molto attivo in questi periodi Vero Eh Chi è che non si guarda Beautiful Guarda quello Tira fuori solo il braccio Brutto bastardo Io ti faccio saltare Guarda Si vede la pancetta Oddio come l'ho ucciso Quella è una macchia di ketchup Qualcuno ha mangiato troppo Eccolo il brutto bastardo Ci devi mo- Oh Ci de- Guardalo Che infami Che tirano fuori solo il braccio Eh Hai capito Tiri fuori solo il braccio Hai capito Si vede la capocetta di uno Guardatelo Un uomo contro un esercito affamato Di persone che cercano incostantemente di ucciderlo Eh Un ragazzo solo Perso e perso solo Che cerca con tutti i suoi mezzi Di dover affrontare Queste orde di uomini Che cercano disperatamente di proteggere Una valigetta Dal contenuto misterioso Guardatelo con che agilità Sta cercando di sparare E qua E braccio di risurre Mortecci Guardatelo con che abilità Tu nonna per cenone Ed eccolo Vieni qua pezzo di merda Eh Che cosa hai detto a mia madre Che puzza Mia madre puzza Eh Vieni qua pezzo di merda Vieni qui Tra l'altro Io volevo farti notare una cosa Dimmi I cosi in cui sei sopra Sono della Fap Fap Ha consegnato la valigetta Sì Matteo E vince La missione È conclusa Mamma mia La mia prima missione da singolo 3500 euro Perché dollari Non mi piace Finalmente abbiamo completato Questa missione Come avete visto ragazzi Io ho dato il massimo Il mio contributo È stato essenziale Per il completamento Di questa missione Ma quindi Se questo video vi fosse piaciuto Io vi ricordo di lasciare Un bel mi piace Fatemi sapere nei commenti Se vi piace l'idea Di fare altri video del genere Vabbè insomma Se possono iscriversi Al mio canale E se volete Cioè in realtà Questa non è proprio una cosa Che Nel corpo Vabbè insomma E insomma niente ragazzi Se questo video vi è piaciuto Vi voglio di lasciare Un bel mi piace E noi ci rivediamo Ad un prossimo video Come sempre Dritto per dritto Yeah